Occhiaie sparite in soli tre giorni con questi rimedi fatti in casa. Ciao amici, capita anche a voi di lottare con quei cerchi neri sotto gli occhi specialmente al mattino? Parli delle occhiaie? Eh già, le occhiaie! Per combattere le occhiaie bisogna agire su tre fattori che le causano. Posizione nel dormire, cura della pelle, alimentazione. Ho spiegato come fare in diversi video che trovate in una playlist dedicata. Ora invece vediamo otto rimedi fatti in casa per far sparire le occhiaie in soli tre giorni. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Uno, cetriolo! Che, mi devo mettere le fettine di cetriolo sugli occhi? Esatto, funziona! Tagliare due fettine di cetriolo e metterle in frigo per 30 minuti, poi applicarle su borse e occhiaie per 10-15 minuti. Dopo basta sciacquare il viso con acqua fresca. Gli antiossidanti e i principi attivi drenanti aiutano a sgonfiare il contorno occhi. Due, pomodoro! Fare una poltiglia di pomodoro e applicarla sulle occhiaie scure per 10 minuti, poi lavare. Il licopene antiossidante che si estrae raschiando bene la buccia rafforza i capillari. La vitamina A e la vitamina B rigenerano la pelle e la vitamina C stimola il metabolismo cellulare. Tre, acqua di rose! L'acqua di rose è uno dei rimedi estetici più antichi, ha un grande potere idratante e ringiovanente. Bagnare con acqua di rose due batufoli di cotone, poi lasciarli in posa per 15 minuti. Scegliete un prodotto puro e naturale, mi raccomando! Quattro, tè nero! Un altro classico dei rimedi antiocchiaie. Fate un tè nero molto forte, poi immergete due dischetti di cotone. Quando si sono ben imbevuti, metteteli in freezer per 10-15 minuti. Teneteli in posa sulle occhiaie per 15 minuti. La teina iperemizzante favorisce il microcircolo e il drenaggio dei liquidi. Gli antiossidanti rigenerano le cellule della pelle. Per vedere tanti altri video tutorial di bellezza naturale, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. 5. Patate! Il succo delle patate crude contiene principi attivi sbiancanti, oltre a vitamina A e C con azione idratante. Va applicato con i soliti dischetti di cotone. Lasciare agire per 10 minuti, poi massaggiare delicatamente e sciacquare con acqua. 6. Olio di mandorle. L'olio di mandorle rimuove le cellule morte della pelle e riduce le rughe. Ha un'azione anti-age contro i segni visibili dell'invecchiamento. Fare un leggero massaggio bagnandosi la punta delle dita con due o tre gocce di olio. 7. Pane e latte. Massimo, mica devo fare colazione! È per le occhiaie! Il latte tonifica e idrata la pelle grazie alla vitamina A, B6 e B12. I lieviti contenuti nel pane leniscono la pelle irritata e scura delle occhiaie. Fare una pappetta con pane latte, poi applicare uno strato sottile su occhiaie e borse. Aspettare 10-15 minuti, poi lavare con acqua. 8. Ricotta. Stendere uno strato di ricotta fresca su una garza e applicarla sulle occhiaie. Lasciare in posa per 10 minuti, poi sciacquare. Contiene albumina e caseina, sostanze grasse, potassio e magnesio con effetto sia idratante che schiarente. Usate questi rimedi la sera o la mattina ogni giorno e in soli tre giorni potreste vedere le occhiaie sparire. E se in tre giorni non succede nulla? Parola d'ordine? Costanza. Ogni pelle è diversa, quindi potrebbero volerci fino a due settimane per vedere risultati stabili. L'importante è essere costanti e non saltare nemmeno un giorno. Nei commenti iscrivetemi quali rimedi vi hanno dato i risultati migliori. Abbi cura della bellezza con la natura. Va in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!